Saranno soprattutto i senza tetto, le prostitute e il carcere a soffrire di più dei tagli e dei mancati trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, ma traino anche tutte le famiglie e le persone in difficoltà economiche, a cui magari nel corso del 2010 termineranno gli ammortizzatori sociali. È pari a 1,2 milioni di euro, infatti, la riduzione di risorse inserita nel bilancio di previsione 2010 del Comune di Padova, conseguenza dei 6 milioni di euro di mancate entrate per l'anno in corso. Una situazione non diversa da quella di altre amministrazioni pubbliche, vista il momento di crisi. Momento di crisi che va a colpire soprattutto le fasce deboli e la povertà in senso lato, proprio gli ambiti in cui lavorano le 80 associazioni di volontariato del privato sociale di Padova, iscritte al registro comunale, che con un documento condiviso chiedono al Consiglio Comunale considerazione, aiuti e soprattutto il mantenimento almeno dei costi per il sociale. Noi chiediamo solamente che per quanto riguarda l'area sociale e sanitaria ci sia una certa discrezione, in virtù del fatto anche che siamo nell'anno europeo alla lotta contro le povertà e contro il disastro sociale. Questo, ma credo che dobbiamo dare un segnale di controtendenza, soprattutto in una città come Padova. Visto che ci siamo già ritrovati per i tagli regionali, bisognerebbe dare un forte segnale. Perché non presidiare il Consiglio Comunale come organizzazioni e come cittadini? Come Acli noi stiamo collaborando con la Caritas nel Fondo Straordinario di Solidarietà e vediamo concretamente tutti i giorni quante famiglie sono in difficoltà, anche famiglie che non sono abituate a chiedere e per cui è necessario un supplemento di intervento. Da parte loro le associazioni portano in numeri l'esperienza sul campo, dalle prostitute che non avranno più l'assistenza sanitaria, già calata del 50% in questi anni per mancanza di fondi, alle strutture di accoglienza dei senza tetto che non avranno di che sopravvivere, al Fondo di Solidarietà della Diocesi, che oggi risponda ad almeno 60 persone ogni settimana e che vedrà con la fine degli ammortizzatori sociali un aumento delle richieste, così come stanno aumentando le famiglie che non riescono a pagare l'affitto e che un'associazione come la Murialdo sostiene economicamente parlando.